Tanta allegria sulle note della celebre canzone del cantante americano Pharrell Williams Happy. La Bolzano Sub l'ha scelta come colonna sonora per il suo video, il servizio di Diana Benedetti. Avete mai visto un Sub ballare per le vie di Bolzano oppure in una delle fontane del capoluogo? Di questo e altro è stato capace il gruppo apnea della Bolzano Sub per girare questo video. Si balla a bordo piscina, sott'acqua, passando per l'idrospinning. Hanno partecipato proprio tutti, dai bambini agli adulti. Un lavoro impegnativo, ma con alcuni momenti decisamente comici. Le più divertenti sono state quelle girate in giro per la città, perché tutti ci guardavano, vedere questi due apneisti vestiti con la muta e girare è stato veramente divertente. Dall'acqua, passando per la neve il ghiaccio, in piscina c'è chi va in slitta, ma c'è anche uno che sta. Non riuscivamo a farlo andare giù, per cui l'abbiamo dovuto riempire di tantissimi pesi. Il problema è che poi finita la sua esibizione, che era stata anche abbastanza lunga, non riuscivamo più a farlo risalire. Per cui lì c'è stato subito, eravamo in parecchi, per cui le condizioni di sicurezza c'erano comunque, ma è stato duro a tirarlo su in tempo utile. Pubblicato su YouTube pochi giorni fa, il video ha già totalizzato circa 2000 visualizzazioni. Per la felicità della Bolzano Sub.